Ora si registrerà la conferenza. E lascio la parola a Valerio, grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti di essere qui. Come ha detto giustamente Paolo poco fa, la mia presentazione sarà una presentazione abbastanza generale su una serie di tematiche riguardanti la termodinamica e il sistema clima. Ed è in parte mutuata da uno short course che ormai per il quarto anno stiamo tenendo all'IGU e che ci sarà anche quest'anno all'IGU 2022, insieme a Remi Teyeux dall'Università di Reading e Gabriele Messori dall'Università di Uppsala. Prima di tutto mi piace cominciare sempre con questa citazione di Arnold Sommerfeld, grande chimico fisico dei primi del Novecento, che diceva, scusate io non vedo tutto il mio schermo perché ci sono una serie di cose di go to meeting, ma va bene lo stesso. E' esattamente il tipo di atteggiamento e formamenti, diciamo, congruente. in cui il fisico tipicamente approccia la termodinamica, che viene fornita, diciamo, nei corsi di studi all'inizio del triennio di Tennale, per chi ha fatto la Tennale, o comunque del quadriennio per il corso classico, nel grande panorama della cosiddetta fisichetta, passato il mio termine, dove però vengono in un certo senso passati velocemente quelli che sono i temi più complicati relativamente alla termodinamica, che hanno a che fare con la meccanica statistica e in qualche modo hanno gettato le basi poi della meccanica e della dinamica quantistica. Io in questo seminario cercherò di tirare fuori proprio i principi base della termodinamica, in particolare il primo e il secondo, per come li conosciamo dai nostri studi, per provare a piegare in che modo, dal nostro punto di vista, si applicano alla comprensione del sistema clima e del suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda gli scambi energetici e il ruolo della circolazione generale. Mi soffermerò in particolare sull'atmosfera, ma come vedrete sconfinerò a volte anche a parlare di alcuni aspetti della circolazione oceanica. Cominciamo da qui, nella immagine sinistra potete vedere un'immagine, una visualizzazione schematica classica di quella che è la circolazione media meridionale nell'atmosfera, con le celle di Aplei nelle zone tropicali e subtropicali, celle termodinamicamente dirette, le celle di Ferrel alle medie attitudini che invece sono indirette e le celle polari sui poli. Questa visualizzazione dell'atmosfera è particolarmente utile per vedere il sistema clima come una sorta di macchina termica o, se vogliamo, un ciclo di Carnot come versione ideale di una macchina termica in cui abbiamo un bacino di calore alle basse latitudini e un pozzo di calore alle alte latitudini, fondamentalmente dettato dal fatto che il riscaldamento diabatico dell'atmosfera ad opera della radiazione solare è a causa di forzanti astronomiche chiaramente non omogeneo e questo innesca, anche solo se la vediamo da un punto di vista puramente diffusivo, un trasporto di calore dalle basse latitudini, insomma, dalla sorgente di calore alle alte latitudini dove appunto immaginiamo di avere un pozzo. Questo trasferimento di calore, oltre a produrre lavoro, trasformando quindi calore in energia meccanica, può essere associata sia una efficienza che descrive quindi l'efficienza di questa macchina termica che un grado di irreversibilità a causa dei processi irreversibili che si attuano attraverso la degradazione dell'energia che viene trasferita. Ora, se la vediamo da un punto di vista medio globale, quello che abbiamo è che abbiamo un input di radiazione solare nello spettro shortwave, onde corte, che viene in parte assorbito, in parte riflesso dall'atmosfera e dalla superficie terrestre e attraverso la trasformazione in altre forme di calore si tramuta poi, se così si può dire, in emissione termica attraverso i vari strati del sistema e una parte di questa emissione nello spettro longwave, invece, infrarosso, viene messa all'esterno. Vi sono anche altre forme di energia che sono gli scambi di calore latente e turbolento dovuti alla evapotraspirazione all'interfaccia tra superficie e atmosfera e il calore sensibile dovuto alla conduzione di calore all'interfaccia. Se però noi andiamo a mediare su un tempo abbastanza lungo questi flussi di calore, andiamo a vedere che sia al top dell'atmosfera che nell'atmosfera che ha la superficie il bilancio netto andrà a essere zero. Questo vuol dire che abbiamo a che fare con un sistema che non è a riposo però attraverso il trasferimento e la trasformazione dell'energia in input ribilancia continuamente questo input con un output di ugual misura. Questo ovviamente ipotizzando è al netto di un eventuale forzante esterna che può causare un imbalance complessivo del sistema. Forzante netta quale può essere per esempio il gas serra o per esempio gli aerosol di natura vulcanica o emessi dalle attività antropogeniche. Questa era la visione media globale. Se andiamo però a mediare zonalmente i vari flussi e a integrarli meridionalmente otteniamo appunto quello che stavamo dicendo all'inizio. Intanto che alle basse latitudini abbiamo un surplus di energia e qui lo vediamo molto bene nella figura di sinistra dove in verde abbiamo i flussi netti al top of atmosphere in rosso quelli in atmosfera e in arancione quelli alla superficie che poi fondamentalmente sono l'assorbimento netto degli oceani. Vediamo appunto come in verde abbiamo questo surplus alle medie latitudini fino circa a 40 gradi di latitudine nord e sud e alle latitudini più alte abbiamo un deficit. Se andiamo a integrare questo profilo meridionale poi otteniamo una figura, quella di destra, dei trasporti meridionali di energia. In questo caso il segno è northward, quindi abbiamo sostanzialmente dei trasporti positivi all'emisfero nord e negativi all'emisfero sud. Vediamo come i trasporti nell'atmosfera, quindi quelli in rosso, non sono esattamente simmetrici e l'attraversamento dello zero sia leggermente nell'emisfero nord che è sostanzialmente in concomitanza con la collocazione media annuale dell'ITCZ, quindi della Intertopia Convergent Zone che sostanzialmente divide, se così si può dire, tra quotation marks, la circolazione dell'emisfero sud e da quella dell'emisfero nord. Ora, per quanto riguarda l'oceano possiamo anche dividere i trasporti meridionali oceanici che sono, come abbiamo detto, stati ottenuti dall'integrazione meridionale dei flussi netti alla superficie nei vari bacini e vediamo, per esempio da questa figura di Trembert-Trencaron del 2001 che l'Atlantico presenta un trasporto nord a tutte le latitudini che sostanzialmente è la signature della circolazione termoalina nell'oceano Atlantico, mentre invece l'oceano indiano presenta trasporti southward a tutte le latitudini e l'oceano Pacifico è sostanzialmente simmetrico. Ora, abbiamo già parlato di quella che è la circolazione media generale dell'atmosfera che è composta appunto da queste celle alternativamente dirette e indirette quindi che accompagnano il trasporto medio dall'equatore verso i poli oppure lo contrastano. Nell'oceano abbiamo due tipi di circolazione fondamentalmente che sono una circolazione wind-driven che è quella delle subpolargiare presenti in particolare nell'oceano Pacifico e in misura minore anche nell'oceano Atlantico e una circolazione buoyancy driven che è dovuta appunto all'interazione con la freshwater formation alle alte latitudini ed è composta da un ramo superficiale che si muove in una direzione, in particolare nell'atlantico verso nord, contrastato da un ramo profondo che si muove nella direzione opposta. Ora, entriamo nel merito della termodinamica. La prima legge della termodinamica è sostanzialmente la legge che prevede la conservazione di energia per un sistema isolato e quindi ho inserito la formulazione differenziale dove l'energia interna che è l'energia immagazzinata in tutti i gradi di libertà del sistema è la combinazione di scambi di calore e di un lavoro prodotto dal sistema sull'ambiente circostante. Ora, questa è la formulazione tipica della prima legge della termodinamica per un sistema riposo ma il nostro sistema, l'atmosfera, ma in generale il sistema clima non è a riposo e questo comporta che la conservazione dell'energia deve tener conto innanzitutto di due fattori cioè della presenza di energia cinetica dovuta al moto dell'atmosfera e dell'oceano e al fatto che questi fluidi sono inseriti in un campo di potenziale gravitazionale e che quindi c'è un'energia potenziale gravitazionale che agisce su di essi. Quindi una scrittura più utile della conservazione dell'energia per quanto riguarda il sistema clima può essere questa, in cui sostanzialmente all'energia interna aggiungiamo l'energia cinetica e l'energia potenziale gravitazionale e riscriviamo gli scambi di calore e il lavoro prodotto dall'atmosfera in questo caso in una forma che tiene conto dell'entropia specifica per quanto riguarda il calore e del lavoro di gradiente di pressione e della dissipazione da attrilo viscoso per quanto riguarda il lavoro sull'ambiente circostante. Per quanto riguarda la seconda legge della termodinamica invece è conveniente scriverla quando parliamo di sistema clima in termini di budget di entropia. In questo caso, a differenza di prima, non sto parlando di entropia specifica ma di entropia macroscopica del sistema ossia sostanzialmente il DQ su T integrato sull'intero volume del sistema. Nel budget di entropia possiamo identificare due componenti la variazione di entropia dovuta a processi irreversibili e la variazione di entropia dovuta a processi irreversibili e chiaramente la seconda legge della termodinamica implica che questo budget non sia maggiore o uguale a zero. Ora, nel sistema clima sostanzialmente possiamo identificare due tipi di produzione di entropia. Una produzione dovuta alla dissipazione viscosa di energia cinetica che chiaramente sarà un processo irreversibile dovuta alla degradazione del calore proveniente dalla radiazione solare in riscaldamento da attrito viscoso e delle componenti non viscose che sono la conduzione di calore dovuta appunto alla diffusione di calore tra masse di fluidi adiacenti a differente temperatura e gli scambi di radiazione all'interno del sistema e con la sorgente che in questo caso ipotizziamo infinita di calore che è il sole. Poi ci sono la produzione di entropia dovuta all'evaporazione e alla precipitazione e infine la produzione di entropia dovuta ai cambiamenti di fase che dal punto di vista del sistema inclusa l'umidità che stiamo considerando è un processo reversibile. Ora, rivisitiamo alcune definizioni del sistema prima che forse ho dato prima un po' velocemente senza soffermarci. Ho detto prima che il sistema non è a riposo ma è in uno stato statisticamente di equilibrio il che vuol dire che appunto immagazzina continuamente energia dall'esterno trasforma questa energia la riemette in modo tale che l'output di energia va ad eguagliare l'input. Questo vuol dire sostanzialmente che l'energia nel nostro sistema al netto ancora una volta come ho detto prima di forzanti esterne è conservata e quindi la variazione di contenuto di calore sarà uguale all'opposto dell'energia meccanica prodotta. Allo stesso tempo questo vuol dire che il budget di entropia sarà nullo e che quindi la variazione di entropia dovuta a processi reversibili sarà uguale all'opposto della variazione di entropia dovuta a processi irreversibili. Chiaramente questo non vuol dire che le trasformazioni di energia all'interno del sistema non producono entropia ma vuol dire come ho detto prima che stiamo consiglando una sorgente di energia infinita che è il sole quale ovviamente non è e che se andassimo a guardare il sistema accoppiato sole-clima ovviamente il budget di entropia scusate sarebbe positivo. Ok. Ora possiamo provare a dare alcuni numeri prendendo in considerazione una versione molto semplificata della termodinamica del sistema che può prendere in considerazione un energy balance model a zero dimensioni in cui la variazione di energia in input viene scritta in questo modo dove S0 è la costante solare Alpha è l'assorbimento di radiazione shortwave e R il diametro scusate il raggio della terra al liquatore e tendenzialmente si dà un valore di circa 122 petawatt per quello che è il flusso netto di radiazione solare in input questo sarà eguagliato dalla outgoing long way radiation cioè dalla radiazione termica in uscita che possiamo scrivere semplicemente come la legge di Stefan Boltzmann dove sigma B appunto è la costante di Stefan Boltzmann Stefan Boltzmann T out è una temperatura rappresentativa della emissione termica del sistema nel suo complesso epsilon è l'emissività termica e questo andrà a eguagliare la radiazione solare in input ora se attribuiamo oltre ad una temperatura rappresentativa di emissione termica anche una temperatura rappresentativa di assorbimento solare TIN al sistema possiamo scrivere la variazione di entropia dovuta agli scambi di radiazione tra la terra e l'ambiente circostante in questo modo come R dot in che moltifica 1 su T out meno 1 su T in daremo un valore di circa 53 millivatt per metro quadro per Kelvin valore che non si discosterà molto da un calcolo della produzione di entropia da tutti i processi irreversibili che ho elencato precedentemente da cui andremo ad ottenere comunque un valore che è compreso a seconda delle stime tra i 30 e i 60 millivatt per metro quadro per Kelvin ora come ho detto prima chiaramente abbiamo ipotizzato che la radiazione che il sole è una sorgente termica infinita ma se andiamo a riscrivere questa equazione prendendo in considerazione una temperatura media della terra di 288 Kelvin e una temperatura della superficie del sole di 5.778 Kelvin otterremo intanto appunto quello che sarà il budget di entropia complessivo del sistema accoppiato terra-sole e poi un valore per la produzione di entropia di 896 millivatt per metro quadro per Kelvin dalla sola fondamentalmente termalizzazione così come viene definita praticamente dei fotoni dei fotoni solari quindi circa 40 volte scusate 16 volte la produzione di entropia dai processi reversibili all'interno del sistema terra ora prima di procedere oltre diamo una definizione importante che è quella di entropia ovviamente molti di voi molti di noi conoscono l'entropia come grandezza termodinamica però io qui la voglio ridefinire o meglio descrivere nell'ottica della circolazione generale all'interno dell'atmosfera ora se noi ipotizziamo una regione dell'atmosfera schematicamente rappresentata da questa box al centro della slide e ipotizziamo un flusso di massa che proviene da sinistra di circa di dm1 dove per dm1 definiamo la massa attribuita a una particella d'aria e uno flusso uscente dato dalla massa relativa alla massa dm2 possiamo scrivere la variazione di energia interna di questa box facente parte dell'atmosfera come in termini di entropia specifica attribuita le due particelle d'aria dm1 entrante e dm2 uscente e questo non è più che meno che l'operazione che noi facciamo quando andiamo a definire le equazioni di continuità per le nostre equazioni primitive che descrivono l'evoluzione dell'atmosfera ora se andiamo ad integrare questa cosa ed utilizziamo questa espressione ed utilizziamo il teorema di Gauss scrivendo il volume all'interno della box come rho u dove u in questo caso è un vettore composto da dx in dt dy in dt per dA dove dA è l'interfaccia attraverso cui passa la particella d'aria andiamo a trovare che sostanzialmente possiamo esprimere la conservazione dell'energia all'interno di questa box come un flusso di entalpia ora dato che possiamo scrivere in forma differenziale l'entalpia di una particella di aria secca come Td sigma più Vdp sostanzialmente abbiamo una forma di 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 flusso di massa e di energia per il nostro che descrive sostanzialmente la circolazione dell'atmosfera a questo a questo poi andremo a inserire andremo a raggiungere ovviamente il fatto che la nostra particella d'aria è inserita all'interno di un campo gravitazionale e quindi è soggetta a un'energia potenziale gravitazionale espressa come Gz e definiremo eta come quella che noi utilizziamo tipicamente per definire l'energia associata ad una particella d'aria all'interno dell'atmosfera che è la cosiddetta dry static energy DSE ora bisogna tenere conto anche di un altro aspetto però quanta energia effettivamente effettivamente è disponibile per il per il moto della particella d'aria all'interno dell'atmosfera è chiaro che se noi prendessimo in considerazione la sola energia potenziale gravitazionale potremmo ci ritroveremmo in una situazione come quella descritta in questa immagine in cui sostanzialmente abbiamo tutta una serie di superfici isentropiche che sono parallele alla superficie terrestre e potremmo definire un profilo verticale di energia potenziale cosiddetta energia potenziale background di sottofondo semplicemente integrando l'entalpia rispetto all'entropia specifica e rispetto a un profilo di pressione di riferimento ora però se la situazione fosse semplicemente questa non avremmo sostanzialmente possibilità per cui il surplus di energia alle basse latitudini venisse trasportato anche solo a meno che discursivamente verso le alte latitudini la situazione in cui si trova l'atmosfera è più una situazione del genere in cui abbiamo delle superfici isentropiche che attraversano le superfici isobariche e in tal modo il riscaldamento diabatico dovuto alla radiazione solare che produce il surplus di energia alle basse latitudini viene trasferito attraverso le superfici isentropiche verso le alti latitudini e potremmo scrivere dare una definizione dell'energia potenziale disponibile per il moto come la differenza tra l'entralpia effettiva calcolata rispetto al profilo di pressione reale e a sigma ancora una volta la specific entropy e l'entralpia relativa al profilo di pressione di riferimento un'altra definizione che è quella che poi è stata utilizzata classicamente da Lorenz nel 1960 per la definizione di energia potenziale available cioè disponibile è il rapporto tra la varianza di la varianza media di temperatura potenziale e la varianza media di temperatura potenziale per il profilo di riferimento e se andiamo a dare alcuni numeri come per esempio quelli che dà il libro il testo Holton del 1992 otteniamo che della energia interna conservata in tutti i gradi di libertà del sistema l'energia potenziale available è circa 5 per 10 alla meno 3 e che a sua volta di questa energia potenziale available quella che viene trasformata in energia cinetica cioè moto del sistema vero e proprio è circa 10 alla meno 1 siccome credo che sto affinando il tempo a disposizione credo che salterò questa parte hai ancora un po' di tempo Valerio perché abbiamo iniziato comunque alle 11 16 quindi sei una mezz'oretta diciamo ah ok va bene allora mi soffermo molto velocemente sul ciclo energetico energetico di Lorenz che in punto di vista classico definito da Lorenz nel 1956 scusate dimenticavo l'anno per definire le trasformazioni di energia potenziale disponibile in energia cinetica quindi sostanzialmente qui abbiamo un diagramma in cui nei box abbiamo le riserve di energia nella prima riga abbiamo le riserve di energia nella circolazione media zonale dove a sinistra abbiamo l'energia potenziale l'available e a destra l'energia cinetica nelle altre due righe ma possiamo consigliarle insieme per quanto ci riguarda abbiamo le riserve di energia negli eddis dove per ti intendiamo transienti e per esse stazionari ancora una volta a sinistra abbiamo l'energia potenziale available e a destra l'energia cinetica i valori che abbiamo inserito qui dentro sono dei valori medi annuali dove andiamo a vedere che per un input di energia potenziale a livello zonale e a livello dei transienti abbiamo una conversione tra energia potenziale available e energia cinetica di pari magnitudine e anche una dissipazione di energia cinetica nella circolazione media zonale e negli eddis che è guai appunto l'input di energia potenziale available quindi sostanzialmente noi possiamo dare una definizione della intensità di questo ciclo di energia cioè di questa trasformazione di energia tra energia potenziale available e energia cinetica e dissipazione anche andando a guardare la generazione di energia potenziale available quindi le frecce a sinistra sostanzialmente sia la dissipazione di energia cinetica quindi le frecce uscenti a destra ciascuna di queste box rappresenta un aspetto della circolazione generale in particolare della circolazione generale nelle medie latitudini dove appunto la conversione avviene attraverso la trasformazione di energia potenziale available dal flusso mediozonale negli eddis attraverso l'instabilità baroclina e la degradazione in un certo senso di questa energia potenziale available negli eddis in energia cinetica che poi negli eddis viene trasferita tra le scale verso eddis di scala sempre più piccola fino a raggiungere la scala di dissipazione di Kolmogorov dove viene trasferita sostanzialmente in termini di calore dovuto a friction ad attrito allo stesso tempo una parte di energia risale le scale dell'energia cinetica attraverso la restaurazione barotropica per poi reinserirsi nella circolazione mediozonale a livello del jet stream ora tornando alla definizione di dry static energy che abbiamo dato prima ETA in realtà un termine che utilizziamo spesso per definire gli scambi di energia all'interno dell'atmosfera è la moist static energy dove alla dry static energy che conteneva un termine di capacità termica e un termine dovuto all'energia potenziale gravitazionale inseriamo un termine relativo alla quantità di unità specifica all'interno della particella d'aria in questa immagine mostro che la integrazione meridionale della moist static energy ci porta a qualcosa di molto simile a quello che abbiamo visto all'inizio integrando meridionalmente il bilancio netto di energia all'interno dell'atmosfera ed è questo profilo nero che poi a sua volta viene diviso in una componente media zonale che è quella verde una componente relativa agli edis transienti quella rossa e una componente relativa agli edis stazionari che è quella blu in questa immagine di bar panel show 2017 vediamo anche come queste componenti della moist static energy si distribuiscono meridionalmente e attraverso le stagioni dove vediamo appunto che c'è un picco nell'estate un picco nell'inverno astrale in JJA e un picco nell'emisfero boreale intorno a febbraio marzo e vediamo anche che gli edis transienti hanno una magnitudine molto maggiore della componente media zonale e anche della componente relativa agli edis stazionari sugli edis stazionari osserviamo anche che hanno un picco intorno a gennaio alle medie attività dell'emisfero nord che non ha una controparte nell'emisfero sud ora per entrare un po' nel merito di quello di cui mi sono occupato e mi sto occupando in questo periodo abbiamo mostriamo qui che l'energia la moist static energy con in aggiunta una componente di energia cinetica può essere moltiplicata per la velocità meridionale v e poi integrata zonalmente e verticalmente per ottenere un flusso totale medio di un trasporto totale medio di energia meridionale e che attraverso una conveniente decomposizione in numeri d'onda zonale che ho scritto in queste equazioni qui sotto possiamo attribuire un trasporto meridionale di calore a ciascuna ciascun numero d'onda zonale che compone la circolazione alle medie latitudini in questo modo cercando di rispondere alla domanda di quali sono le scale della circolazione eddi alle medie latitudini che hanno maggiore importanza per il trasporto meridionale di calore appunto alle medie latitudini questo era già stato fatto da Gravesen e Murtu nel 2016 dove avevano sostanzialmente diviso il trasporto mediale di calore definito appunto come V per E per ogni numero d'onda zonale e ne avevano calcolato del contributo medio annuale ad ogni latitudine quindi vediamo da questa immagine qualcosa di molto simile in realtà a quello che avevo mostrato prima da Barpan e Show dove la wave zero cioè la circolazione media zonale ha questi due picchi uno negativo e uno positivo rispettivamente alle medie latitudini e ai subtropici poi abbiamo una componente relativa alle onde 05 che sono le onde alla scala planetaria che rappresentano circa metà del trasporto medionale totale e quindi vediamo che l'altra metà è composta dalle onde da 6 a 10 che sono le onde alla scala sinottica le quali non solo contribuiscono circa la metà del trasporto annuale totale ma definiscono anche la posizione del picco che in questa immagine si trova circa a 42 43 gradi nord ecco noi ripartiamo da questo discorso per mostrare quella che è la dispersione meridionale e la funzione di distribuzione di probabilità di questi trasporti focalizzandoci in questo caso sui mesi invernali e quindi DJF e qui mostriamo nell'immagine in alto quello che è il trasporto totale quindi comprendendo tutti i numeri d'onda dove in giallo mostriamo la mediana che sostanzialmente corrisponde a quello che era stato mostrato da Gavesen e Nenburtu mentre i contour plot colorati rappresentano le PDF mostriamo come le PDF sono radicalmente non gaussiane non simmetriche attorno alla mediana e che anzi rispetto ad una mediana che oscilla tra i 6 petawatt a 30 nord e i scusate i 4 petawatt a 60 nord con un picco ancora una volta intorno a 42 43 nord abbiamo dei estremi di calore poleward che arrivano fino a 12 13 petawatt in particolare intorno al picco se poi andiamo a dividere la PDF nei vari numeri d'onda vediamo in basso a sinistra il pannello B rappresenta la circolazione media zonale quindi K0 che oscilla tra 2 e meno 2 petawatt e nel pannello C vediamo le onde planetarie che hanno un picco intorno a 52 53 gradi nord di circa 5 petawatt e nel pannello D vediamo le onde a scala sinottica che hanno un picco poco prima dei 40 nord di circa 3 petawatt quindi vediamo che davvero la componente fondamentale in DJF nell'emisfero emisfero nord è dato dalle onde a scala planetaria quindi K1 5 e che queste onde planetarie come possiamo vedere dai contours tratteggiati in rosso e in blu che rappresentano rispettivamente gli eventi estremi oltre il 95 percentile rispettivamente pole world e equator world più debole della mediana sono distribuiti principalmente nel range di scale delle onde planetarie qui vediamo meglio quello che stavo dicendo prima relativamente alla lunga ossianità del trasporto da ammissoria età 2013 dove vediamo appunto che abbiamo estremi fino a 20 25 petawatt 2 per e 16 a rispetto di una mediana che si trova intorno a 1 2 a 1 2 petawatt vediamo che in in questa immagine invece l'importanza degli estremi di trasporto di calore dove in ogni epica abbiamo una stagione di GIF la prima 93 94 poi 94 95 e sono evidenziati in blu gli eventi estremi e alla destra la percentuale rappresenta la percentuale di trasporto di calore attribuibile a questi eventi estremi sul totale del trasporto di calore che avviene durante una stagione dove vediamo che alcuni anni rappresentano addirittura circa in alcuni anni gli eventi estremi rappresentano addirittura circa il 49 2 se non addirittura il 55 7 e nel 2002 2003 per cento del trasporto di calore totale all'interno di una stagione questo vuol dire che è molto importante andare a guardare questi eventi estremi e cercare di capire come si collegano alla dinamica della circolazione generale alle medie latitudini per questo motivo abbiamo sostanzialmente proiettato gli estremi di trasporto di calore sui regimi meteorologici cioè sulle figure tipiche della circolazione generale alle medie latitudini dell'emisfero nord abbiamo calcolato poi quella che è la frequenza di questi regimi meteorologici nella popolazione degli eventi estremi rispetto alla popolazione normale diciamo degli eventi e quindi alla frequenza normale dei regimi meteorologici questo pannello qui a sinistra mostra proprio questo cioè la variazione di frequenza di determinati estremi rispetto nella popolazione degli eventi estremi e dove vediamo per esempio che i regimi meteorologici Nao meno e Nao più diventano per questi eventi estremi rispettivamente più frequenti fino al 40% e meno frequenti per quanto riguarda Nao più fino al 20% ora qui sulla destra mostro come sono fatti questi eventi questi regimi meteorologici e per Nao meno sostanzialmente si intende un pattern di blocco queste sono mappe di geopotenziale a 500 pascal dove per Nao meno appunto intendiamo un pattern di blocco sulla Groenlandia e una circolazione mediamente depressa alle medie latitudini dell'Eastern Atlantic e della Western Europe e il contrario per quanto riguarda Nao Plus questo pattern è anche coerente con un aumento nella frequenza di fino al 20% dei regimi meteorologici cosiddetti Pacific Trough dove abbiamo una zona di bassa pressione o di geopotenziale più basso intorno a sud dell'Alaska e un geopotenziale più alto nel centro del Nord America e anche con un aumento di frequenza dei regimi cosiddetti Arctic oscillation che sono AU che sono molto simili a regime N o meno e una diminuzione della frequenza dei regimi cosiddetti Aleutinian Ridge che sono contrassegnati sostanzialmente da un blocco sulla lastra e sullo stretto di Bering e da una circolazione mediamente depressa intorno alla Baia di Hudson e all'Islanda sud della Cruellandia se andiamo a guardare invece degli eventi estremi pole world i cosiddetti eventi estremi equa pole world cioè di trasporto medio di calore più debole del normale vediamo che la situazione speculare con una diminuzione nella frequenza di regimi N o meno un aumento di regimi N o plus una diminuzione di regimi A o e un aumento della frequenza di regimi A l r mi avvio alle conclusioni sostanzialmente alcuni messaggi su cui ho voluto soffermarmi in particolare che la termodinamica gli scambi di energie e la circolazione dell'atmosfera e degli oceani sono aspetti fortemente interconnessi che i principi primi della termodinamica possono essere utilizzati per migliorare la nostra comprensione della dinamica del sistema di come evolve e di come trasforma energia al suo interno che il trasporto di calore all'interno degli edis delle medie latino è fortemente non lineare che l'analisi degli estremi permette di evidenziare l'emergenza di alcuni regimi meteorologici particolari e che questo pone delle prospettive interessanti per quanto riguarda l'identificazione di precursori e della persistenza nei trasporti medicinali come modo di migliorare la predizione di situazioni di severe weather alle medie latitudini grazie per l'attenzione grazie mille grazie adesso vado a stoppare la registrazione le